Le api non fanno parte del mondo, le api sorreggono il mondo. La notte di Ferragosto a Maiori, che doveva essere un'occasione per festeggiare, si è trasformata in una serata da dimenticare per alcuni ragazzi. Durante un evento tenutosi presso il porto turistico di Maiori, una discussione tra ragazzi ha lasciato un sedicenne di Ravello gravemente ferito, mentre due giovani sono finiti in cometilico. La lite tra i ragazzi, scoppiata per motivi ancora da chiarire, ha visto il giovane di Ravello riportare frattura alla mandibola ed è stato immediatamente trasferito al secondo policlinico di Napoli, dove è stato sottoposto a un intervento maxillofacciale. Nella stessa serata, altre due giovani vite sono state messe in pericolo a causa dell'eccessivo consumo di alcol. Un diciottenne di Conca di Marini ed una sedicenne di Napoli sono stati colti da malore e sono finiti in cometilico. I due ragazzi sono stati trasportati in due momenti diversi al pronto soccorso dell'ospedale Costa d'Amalfi di Castiglione, dove hanno ricevuto le cure necessarie per stabilizzare le loro condizioni. Entrambi sono stati dimessi poi nella notte. A tal proposito, quella stessa sera i carabinieri della stazione di Maiori hanno denunciato il titolare ed un dipendente di un esercizio commerciale locale per aver somministrato alcol a un minore di 16 anni. Il deferimento all'autorità giudiziare del titolare e del dipendente dell'esercizio di Maiori rientra nelle azioni messe in campo dai carabinieri per contrastare queste pratiche pericolose. L'operazione si è svolta grazie ai rinforzi ottenuti attraverso una richiesta presentata dalla Prefettura di Salerno al Ministero dell'Interno. L'episodio si inserisce in un contesto più ampio di controlli intensificati dalla Compagnia dei Carabinieri di Amalfi, diretta dal Capitano Alessandro Bonsignore, che ha schierato 30 pattuglie e 60 militari su tutto il territorio, da Positano a Maiori, per garantire la sicurezza durante i giorni più caldi dell'estate. All'esito dei servizi sono stati identificati e controllati 230 persone, 86 auto e 97 motocicli, elevate 6 sanzioni amministrative pecuniarie per un importo di 6.000 euro. Ritirata una patente di guida, segnalati due soggetti alla Prefettura per uso personale di stupefacenti del tipo hashish e marijuana, è denunciato un soggetto di Napoli per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.